Prendi via il progetto Guida Sicura, ne parliamo con il questore di Rovigo, Giovanni Battista Scala. Sì, prende via un'altra campagna di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con la DESPAR per quanto riguarda dei temi molto importanti che riguardano la cittadinanza. Siamo partiti con il bullismo, abbiamo fatto anche quelli sulla sensibilizzazione per le truffe. Questo è un tema altrettanto importante che quello della Guida Sicura, quindi sensibilizzare gli utenti della strada ad avere dei comportamenti corretti, ricordandoci che siamo tutti utenti della strada a partire dai bambini quando cominciano a muoversi in maniera autonoma o comunque con le biciclette, con i pattini e con i monopattini. Quindi bisogna avere tutti quanti dei comportamenti responsabili e sapere bene quali sono i comportamenti da avere. Avete sintetizzato in un volantino otto comportamenti da tenere per gli utenti della strada, possiamo andare a ricordare loro quali sono? Ma sì, sono otto punti. Diciamo, quello su cui focalizzare l'attenzione sono due, che sono quelli della manutenzione della macchina, del mezzo, quindi fare controlli pneumatici, che è una cosa fondamentale. Molte volte si dimentica di questo controllo che è fondamentale, perché i pneumatici sono ciò che viene incollato la macchina alla strada. Quindi un controllo della macchina, della revisione, dei freni e di tutto quello che riguarda le dotazioni di sicurezza è lo stato psicofisico della persona, che non significa soltanto non guidare se si è assunto sostanze stupefacenti o alcolici, ma anche se si è stanchi. Quindi fare delle pause durante i viaggi che sono necessarie. Un arrivare alle famiglie in maniera diversa attraverso una cosa, un'azione che si fa quotidianamente la spesa, quindi si vuole cercare di avvicinarsi sempre di più verso gli utenti? Assolutamente. Sono diversi anni che la Polizia di Stato, soprattutto attraverso la sua specialità della Polizia Stradale, fa delle campagne di sensibilizzazione all'interno delle scuole e in altre occasioni. Questo è sicuramente un'occasione diversa, ma altrettanto importante e diffusa, perché tutte le persone vanno a fare la spesa, quindi avere la possibilità di essere informati in queste situazioni renderà questa informazione sicuramente più diffusa e più possibile, più importante possibile. Per Despar, Giovanni Italiana, un'iniziativa con la Polizia di Stato direttamente nelle casse dei vostri supermercati? Sì, oggi ci troviamo qui a Rovigo. Devo ringraziare il questore e tutto lo staff della questura di Rovigo, in quanto che da domani si troveranno tutti questi opuscoli nei punti vendita di Despar, Eurospare e Interspar di Rovigo e provincia. Per noi questo è un altro messaggio alla comunità, perché come si diceva ormai il supermercato è diventato un punto di incontro e cerchiamo di fare anche noi la nostra parte, dando queste comunicazioni al consumatore e cercando di creare sempre più collegamento col territorio che ospita i nostri punti vendita.